Ciao a tutti benvenuti a Samplein è rimasto che avevo catturato le sette streggine e le foto la proseguo, buonasera, 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 mangio, mangio, mangio un buono, ammettare senza il tuono, ammettare la frucazione con cui vengono riesce a risparmiare le emissioni di gilda, ammettare senza il ghiaccio, ammettare la qualità che mostri grandi sono deboli, ammettare senza il fuoco, proteggere alcuni attacchi in intimo arampico, ammettare senza l'acqua, a cercare il cubo della vita con questi cambi andiamo a mettere un po' in cazzo come on let's go oh bene allora assieme qua non posso fare niente in questa posizione ok andiamo grazie ragazze che avete segnato in gravios ok e l'opera è stebone ok arriva ragazze anche come me con l'arco ah cazzo è stato gravios è diventato piccuno e la madonna ragazzi sti cazzo ma che nel pallaggio queste missile di fuoco da quando si sti grazie ciao aiuto ho sbagliato io stupido ho cambiato l'arco non sto neanche lo stesso sti cazzo minchia guardatelo aiuto bravo DAXOI bravo DAXOI bravo DAXOI bravo DAXOI bravo 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 hai giusto hehehe male oh 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 come male hehehe bravi 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 mi aiuto non ce la fai bravi bravi dove si fa grazie vale come lì la nostra aiuto aiuto oh io madonna ho fatto un baccardi hai dato una camera adesso hehehe pan hehehe figata aiuto san ce l'ha com'è che cazzo ha fatto mi fanno così male torta troia cesti cazzi si ragazzi si ragazzi sono andato solo voi io lo andavo a fare ragazzi che cazzo ha fatto che cazzo ha fatto che cazzo ha fatto aziendere no d'aura salta ok ecco ecco ma lei bravo ja uoi tanto io carico guardate così cosa dovete volare ma è qualcosa ok aiuto aiuto lì madonna, è pessima resistenza al fuoco no, io volevo scaricare ancora finito, ancora la Graves ecco la mia presione ok Graves, mi sentirei ancora molto bravi eh 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 non è andato, è calmata and it gets and it gets è andato Tuuuu Tuuuu Mazzate da fermare la vostra. Mamma mia, questo lo serve contro un bel danno. Mamma mia ragazzi. Aiuto. Eh eh eh. Aiuto. Quindi? Mi posso anche segnale. Cazzo ma più boccette. Aiuto. Aiuto. Amore. 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 Ok. Ok. Now this... Now we go. Let's go, that's it. Oh, gotcha. I don't know something. aiuto però qua porca troia ragazzi insomma non ho accorto che mi sono distratto si ragazzi avete poco da fare possibile e vai ah l'avete commentato vabbè si potrebbe anche accedere comunque ok vabbè si vabbè si è completa corteccio corteccio corona carapace sac e coma però sac e esplosiva migliorno osso dronitico osso mostruoso alla dura corteccio 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 metto con su un trotto per essere no no perfetto gravi stola compagni la durante esplorazione di oggi ok 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 della pallamera pippa ok buonasera signorina hey tutto bene stai andato di nuovo a caccia wow non male mai e te stimo per questa tieni prendi questo dono come ricorciamento per le tue instaccami lavora buon lavoro posto da borsa ok perfetto bene ragazzi passiamo a presto ciao a tutti ciao a tutti